Ciao a tutti e tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in questo video sarà un video outfit intanto vi faccio vedere il trucco che è molto molto semplice innanzitutto ho messo solo il fondotinta la terra e il mascara perché sto andando a mangiare una pizza poi come outfit ho questa magliettina aspettate che vi provendo ho questa magliettina qui e i leggings questi qua che vi faccio vedere nell'altro video haul e le converse adesso vi faccio l'inquadratura semmai aspettate, aspettate, aspettate eccola cruci vabbè, questo è dietro poi vi faccio vedere davanti e questo colga avanti aspettate, non mi inquadro eccola là e niente ragazzi il video è finito spero che il video vi sia piaciuto e ho fatto lo chignol e al pulso ho il mio morellato e basta e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lo so, è un po' improvvisato però non sto andando di fretta perché tra 5 minuti devo uscire di casa e sto morendo di fame anche e niente io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video se il video vi è piaciuto mettete tanti mi piace vi ringrazio siamo quasi 900 iscritti e niente alla prossima ciao 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 ciao